che è passato. Qua invece erano tutti legati, nel senso che stavano tutti con la Lega, manifestazione diciamo dominata da Salvini per tutto il centrodestra. Cosa ne pensi di quella piazza? Quella era una piazza sicuramente di successo, nel senso che era piena di gente e elettori di Salvini, di Salvini, della Meloni, di Berlusconi, non c'era solo Salvini, e c'erano tante persone, popolo, diciamo così, ok? Cosa ne pensi di quella piazza, che è la stessa dove andrete domani? Beh, è una piazza, come dire, tutte le piazze sono da rispettare, quindi credo che quando ci siano persone in piazza vada rispettata la loro opinione e probabilmente noi torniamo in piazza proprio perché abbiamo visto quelle piazze che si riempivano con altri messaggi, quindi è un po' anche questo ci ha scatenato, così questa reazione, per cui vogliamo riappropriarci di spazi fisici che forse una volta ci appartenevano o non ci sono mai appartenuti, ma ci dava un po' fastidio che fossero solo di altri. Più che lo stile... No, no, stavi dicendo altro? No, io credo che lo stile sia molto diverso tra le nostre piazze e quelle piazze, non è un caso che domani non ci sarà un vero e proprio palco. Che avete voi? Un camion? Una specie di piattaforma con le ruote che è alta un metro, quindi non ci sarà neanche differenza tra chi sta giù e chi sta su, perché non c'è un vero su e non c'è un vero giù. Una sardina vale una sardina? Scusa, sta domanda mi è venuta così. No, chiedo, chiedo.